A Genova c'è una casetta molto speciale, è Camaman. Ne scopriamo di più tra poco, in panchina. La padrona di casa, in qualche modo, di Camaman è Anna Banderali. Buongiorno, Anna, benvenuta. Anna è la presidentessa dell'associazione Camaman, questo è il simbolo, tra l'altro in pasta di zucchero profumatissimo, è un peccato che non lo possiate sentire, ma è un bel simbolo che rappresenta anche tutta la dolcezza di questa iniziativa, Anna. Sì, sì, assolutamente. Di cosa si tratta? Allora, noi siamo un gruppo di donne, fondamentalmente, diciamo che l'abbiamo fondata come psicologhe, ma poi abbiamo esteso poi comunque questa nostra iniziativa anche ad altre figure professionali e non solo. Quindi siamo davvero un gruppo di socie che sta aumentando e che proponiamo tante iniziative a favore della donna, della famiglia e anche poi con un occhio particolare rispetto alla maternità. In qualche modo Camaman vuole diventare davvero un punto di riferimento per la donna, per la mamma, per la donna che lavora, insomma. Una casa dove sentirsi a casa. Sì, è proprio l'idea che abbiamo, era proprio quella della casa, cioè una casa per le donne, in cui ci sia la possibilità di accedere appunto nelle diverse modalità, a seconda delle esigenze. La donna che lavora, per esempio, potrà gradire, venire alla sera a fare la lettura ad alta voce, che è un percorso che stiamo facendo. Oppure la mamma può venire a trovarci alla mattina, parlare con le ostetriche, per esempio. Quindi abbiamo tutte queste, anche diverse figure professionali che si avvicendano e che forniscono un servizio alla donna tutto tondo, diciamo. Ci sono degli eventi, delle iniziative spot, diciamo così, con un grosso calendario che potete trovare sempre aggiornato sul sito. Ci sono anche però dei servizi che offrite sempre, insomma, che vi accompagnano tutto l'anno. Che sono? Allora, diciamo i servizi stabili, quelli che si ripetono quindi tutte le settimane. C'è al giovedì mattina il gruppo di, diciamo, orientamento, che è un gruppo di orientamento al lavoro, ma è anche un gruppo dove vengono valorizzate le capacità personali e professionali delle donne che magari vogliono ricominciare a lavorare dopo una maturità o chissà. C'è il gruppo di Mindfulness che attivo tutte le settimane, a lunedì, sulla consapevolezza, coltivare la consapevolezza dell'essere donna in tutte le sue forme. E poi il venerdì mattina c'è uno sportello sempre aperto per la donna a libero accesso. A 360 gradi per qualsiasi tipo di esigenza. Ricordiamo, Anna, quelli che sono i vostri indirizzi. Intanto dove siete fisicamente? Allora, fisicamente noi siamo in Vico di Mezzagalera, a Tre, rosso. Qui vicino. Qui vicino, lì dietro. Invece, se ci volete vedere tutte le attività che facciamo, sul sito c'è tutto. E anche sulla pagina Facebook, che viene aggiornata come, insomma, si usa fare di questi tempi. Ti faccio una domanda, Anna. La soddisfazione che ti dà gestire questa associazione? Perché immagino, insomma, che ci sia tanto impegno, tanto lavoro, ma anche tanta soddisfazione. Sì, l'impegno è tanto, il lavoro anche, la soddisfazione è anche un progetto in cui noi crediamo davvero tanto. Quello che stiamo cercando di fare in questo momento è di far conoscere alla cittadinanza, alle donne, tutti questi servizi gratuiti, tra l'altro, che forniamo. Perché ancora ci siamo insediati in questa nuova sede da poco, ancora tante donne non sanno che ci siamo. Quindi stiamo cercando di far sapere che ci siamo, perché davvero ci crediamo tanto. E infatti questa chiacchierata in panchina serve anche a questo. Anna, in conclusione appunto di questa chiacchierata che abbiamo fatto, chiedo a te, come spesso chiedo ai miei ospiti, un piccolo consiglio letterario. Sì, allora, noi abbiamo scelto questo libro, ci siamo consultate e abbiamo scelto The Help perché è un libro che parla di donne, un libro scritto da una donna e dove vengono affrontate tanti temi, dalla solidarietà, il tema della giustizia, dell'ingiustizia, la maternità, l'amore, per cui è davvero, c'è un po' tutto e tanto la forza di queste donne che si riuniscono per fare un po' una rivoluzione, in qualche modo, un cambiamento che è un po' il nostro spirito. Noi ci siamo riunite per voler davvero essere una forza. E cambiare magari qualcosa in meglio per tutte noi, ma per tutti noi, mi sento di dire. Grazie Anna per essere stata con noi questa mattina. A voi tutti ricordo che, come sempre, potete vedere e rivedere questa intervista sul nostro sito xliguria.it